La manifestazione da ormai 16 anni ed ecco il passaggio a comando incrociati con la luce di atterraggio accesa per un saluto a tutto il pubblico. Ciao Graziano, sempre con noi. Ed ecco il passaggio a comando incrociati del nostro Graziano Mazzolari. Grazie Enrico, ecco, salutiamo Gustavo Saurico, Simanza, scafo centrale. La scarpone solo, prima scarpone destro, ora scarpone sinistro, ora ancora scarpone destro. Graziano Mazzolari ha una scarpacità. Non per scarpare in questo modo. Abbiamo visto anche la baratta. Graziano Mazzolari ha una scarpacità. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti.